ITC 5 Stelle che rilanciano le loro proposte di modifica. Ripropone lo sgrabio totale per l'IRAP alle micro e piccole imprese e ripropone soprattutto il ripristino della legge che decontribuiva sia IMSS che INAIL per le nuove assunzioni ed era strutturale. Tra gli emendamenti presentati la notte scorsa dal governo c'è quello che aumenta da 5 a 8 milioni di euro le risorse per il fondo a favore delle famiglie meno abbienti per recigenze alimentari, energetiche e sanitarie. Alle poste, oltre al pagamento dei debiti con la pubblica amministrazione, è stato invece concesso di rivedere la frequenza di ritiro e consegna della posta e la relativa tariffazione. Con un altro emendamento il governo autorizza le forze di polizia a utilizzare il carburante che sequestrano definiti in oltre tempi e procedure del passaggio a terna della rete elettrica ad alta ed altissima tensione di proprietà delle ferrovie dello Stato che utilizzerà il ricavato per investimenti sulla rete ferroviaria. Grazie. Grazie. Grazie.